Buonasera di Jorge Luis Borges, I giusti. Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire. Chi è contento che sulla terra esista la musica? Chi scopre con piacere una etimologia? Due impiegati, che in un caffè del sur giocano in silenzio agli scacchi. Il ceramista, che premedita un colore e una forma. Il tipografo, che compone bene questa pagina, che forse non gli piace. Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto. Chi accarezza un animale addormentato? Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto? Chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson? Chi preferisce che abbiano ragione gli altri? Queste persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo.